Era l'ottobre del 2018 quando la tempesta vaia devastò la provincia di Belluno, tra le aree colpite e anche Cortina, in particolare l'abitato di Alverà. Proprio nella frazione ampezzana si è tenuta l'inaugurazione degli importanti lavori che negli ultimi anni le strutture regionali del genio civile e dei servizi forestali hanno realizzato per la sicurezza idrogeologica del territorio. Cifre e dettagli nell'intervista all'assessore regionale al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottacin che ha seguito gli interventi passo passo nella loro evoluzione. Interventi molto importanti, basti pensare che nel solo territorio del comune di Cortina d'Ampezzo abbiamo investito in questi ultimi tre anni quasi 26 milioni di euro in vari cantieri, uno lo vediamo alle mie spalle, ma a questo Torrente Bigontina, ma poi siamo intervenuti con le nostre strutture regionali anche sul boite. E questo l'abbiamo fatto non solo perché ci sono le Olimpiadi, ma anche e soprattutto per garantire un miglioramento della sicurezza dei cittadini di Cortina e dei turisti che la frequentano. Da parte dell'assessore Bottacin anche un particolare e sentito ringraziamento a tutti coloro che lavorano per realizzare fattivamente tutte le opere a difesa del territorio, un compito non facile, aggravato dalla presenza di una fitta giungla burocratica che spesso rallenta la macchina operativa. Devo ringraziare tutti perché quando il governo ci assegnò i fondi VAIA qualcuno aveva dei dubbi che riuscissimo a metterli a terra, 26 milioni di euro a Cortina ma oltre un miliardo di euro messi a terra in tutto il Veneto. Questo lo dobbiamo grazie ai nostri tecnici, alle nostre imprese, alle nostre strutture che ringrazio e che sono riuscite ad affrontare anche situazioni molto complesse senza mai tirarsi indietro e hanno consentito la messa a terra di tutte queste opere. E questo anche grazie al fatto che sono riuscito a negoziare nell'ordinanza di protezione civile tutta una serie di deroghe perché altrimenti in questo paese per fare tutte queste opere ci sarebbero volute almeno 10 anni. Invece con le deroghe siamo riusciti a fare bene e a fare in tempi rapidi.